ciao a tutti oggi completeremo l'esercizio numero 2 e lo faremo mettendo in fila le tre scene che abbiamo preparato nelle parti precedenti dell'esercizio e non solo metteremo le tre scene in fila ma le separeremo con delle transizioni in particolare la transizione che ci porterà dalla scena 1 quella del sole dell'aereo alla scena 2 quella del mare qui si vede bene è una tendina a salire dal basso verso l'alto nascosta da questo gruppo di nuvole distribuite orizzontalmente mentre la transizione che ci porta dalla scena 2 alla scena 3 è questo grosso pesce rosso che si muove da destra a sinistra che a sua volta nasconde appunto la transizione laterale da destra verso sinistra benissimo direi di cominciare quindi prima cosa creiamo la composizione finale che conterrà tutte le scene che abbiamo preparato quindi vado nel menu composition new composition chiamo questa composizione finale esercizio 2 e gli aggiungo finale anche per far capire che questa è la composizione che contiene tutte le composizioni poi reset 1080 25 il solito e come durata deve essere almeno la durata totale delle tre scene messe in fila siccome ogni scena durava 10 secondi questa composizione deve durare almeno 30 secondi per sicurezza 30 secondi e do l'ok benissimo andiamo a vedere dove sia infilata della finestra di progetto ce l'ho qui chiudiamo le altre cartelle attenzione io la scena numero 3 l'avevo lasciata fuori a tutte le cartelle quindi la prendo la sposto nella cartella che contiene le scene e la composizione esercizio 2 finale invece la lascio fuori da tutte le cartelle benissimo allora incominciamo col prendere la prima scena e aggiungerla all'interno di questa composizione quindi è un livello che contiene tutto quello che c'è nella scena 1 e dura appunto 10 secondi ora dagli 8 ai 10 secondi voglio che avvenga quella transizione che abbiamo visto prima dal basso all'alto prima di creare il taglio che sale e fa sparire questa scena qui creo gli elementi grafici che nasconderanno questa tendina e gli elementi grafici che devo creare sono questo gruppo di nuvole qui distribuite orizzontalmente quindi che faccio vado nella cartella dei miei disegni prendo la mia solita nuvola eccola qua l'aggiungo la ingrandisco un po di più la duplico naturalmente la seleziono la timeline control d come scorciatoia ho una copia la copia che sta sotto la sposto un po a destra e la riduco un po in dimensione la cosa importante che queste nuvole siano distribuite orizzontalmente e che occupino tutta la larghezza della composizione quindi non devo lasciare nessuno spazio vuoto tra la nuvola e il margine destro della composizione quindi più o meno così poi duplico un'altra volta la nuvola control d e la sposto da questa parte magari l'allungo un po la cambio un po di dimensione così e la duplico un'altra volta eccoci qui e magari ne metto una copia più piccola qua dietro così come una variazione in più benissimo quindi ho questo gruppo di nuvole distribuite orizzontalmente e adesso questo gruppo di nuvole dovrà muoversi dal basso verso l'alto deve entrare in scena dal basso attraversare tutta la scena e poi scomparire fuori in alto ma prima di fare questa operazione devo raggruppare tutte queste quattro nuvole quindi devo far diventare questi quattro livelli un livello unico e noi sappiamo che si fa così cioè si selezionano i livelli che si vogliono precomporre quindi seleziono il primo e shift l'ultimo ecco le quattro nuvole sono selezionate ora vado nel menu layer precompose e chiamo questa precomposizione nuvole e specifico che queste nuvole servono per coprire la transizione quindi le chiamo nuvole transizione ok ecco qui al posto dei quattro livelli di nuvole ho un unico livello chiamato nuvole transizione ora io ho bisogno che queste nuvole qui attenzione si vedano per due secondi dagli 8 ai 10 secondi quindi i primi 8 secondi di questa composizione qua non mi servono quindi io mi metto a circa 8 secondi col cursore e trimmo tutti i frame iniziali fino a 8 cioè fino qua quindi mi rimangono solo due secondi di nuvole da 8 a 10 adesso cosa farò l'animazione della posizione di queste nuvole da fuori basso a fuori alto quindi seleziono le nuvole tasto p per evidenziare la position mi metto dove cominciano le nuvole sposto le nuvole fuori in basso quindi soltanto in verticale ecco quando tutte le nuvole sono fuori mi fermo e accendo l'orologio e ho fissato il punto di partenza poi vado sull'ultimo frame qua e sposto le nuvole fuori in alto eccoci qui quindi se adesso faccio una preview da circa prima di 8 a un attimo dopo 10 faccio la preview vedrò che in due secondi le nuvole attraversano la scena perfetto ora durante il passaggio di queste nuvole io voglio che la scena 1 sotto qua sparisca quindi che faccio adesso vado a lavorare sulla scena 1 la seleziono e gli aggiungo un effetto di transizione quindi sarà l'effetto a tagliare via la scena di selezione di nuovo la scena vado nel menu effetti sezione transition e mi serve la linear wipe la tendina lineare e do l'ok andiamo a vedere come funziona la linear wipe noi dobbiamo lavorare sulla proprietà transition complexion guardiamo cosa succede quando l'aumentiamo da 0 a 100 ok da 0 a 100 noi facciamo sparire la scena con una tendina in questo caso da sinistra verso destra noi vogliamo che questa tendina salga dal basso all'alto quindi dobbiamo trovare la direzione giusta e quindi dobbiamo agire sulla proprietà wipe angle la direzione giusta è verso l'alto quindi dobbiamo dargli 0 gradi di direzione benissimo adesso noi metteremo due keyframe da 0 a 100 per cento sulla proprietà transition complexion e siccome dobbiamo mettere dei keyframe a una proprietà di un effetto dobbiamo vedere quell'effetto nella timeline quindi tasto destro su una delle proprietà dell'effetto e reveal in timeline per far vedere rapidamente i parametri dell'effetto nella timeline sotto la scena 1 ecco qui adesso io devo capire qual è il momento giusto per far partire la transition complexion a zero e farla finire a 100 per cento il momento giusto dipende tutto dalla posizione delle nuvole e per la precisione quando le nuvole coprono interamente la base della composizione questa zona qui ecco questo è il momento in cui la transition complexion deve essere a zero quindi in questo momento accendo l'orologio di transition complexion e fino qua tutto a posto adesso quando la transition complexion dovrà trovarsi qua su in cima quando il gruppo di nuvole nasconderà interamente il lato superiore della composizione e io direi che il momento giusto è questo vedete che le nuvole nascondono completamente il lato superiore ecco in questo momento la proprietà transition complexion deve valere 100 per cento quindi a metà strada tra zero e cento per cento la tendina salirà dal basso all'alto ma noi non la vediamo questa tendina perché è nascosta dalle nuvole se io abbasso per un attimo l'opacità delle nuvole quindi seleziono le nuvole faccio il tasto t abbasso un attimo l'opacità vedete sotto il taglio sulla scena 1 che si trova proprio sotto le nuvole ed è interamente nascosto dalle nuvole e questo avviene sempre sia all'inizio sia alla fine per cui noi quel taglio non lo vediamo perché davanti ci sono le nuvole che lo nascondono bene fatto questo noi vogliamo che qua sotto le nuvole si veda già la scena numero 2 quindi cosa facciamo torniamo nella finestra progetto prendo la composizione scena 2 la aggiungo nella timeline io voglio che si veda l'inizio della scena 2 quando comincia la transizione ma in questo momento io sto vedendo gli ultimi due secondi della scena 2 e non va bene quindi prendo nella timeline la scena 2 la sposto avanti 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 e deve cominciare quando comincia la transizione quindi vado su questo keyframe qua l'inizio la transizione prendo la barra della scena 2 faccio in modo col tasto shift che cominci proprio qui quindi da qui in poi noi vediamo la scena 2 facciamo qualche secondo di preview intorno alla transizione quindi questa è la fine della scena 1 incomincia la transizione e già noi vediamo l'inizio della scena 2 sotto le nuvole perfetto qui comincia la scena 2 poi va avanti fermiamoci c'è solo una cosa da fare guardate vi faccio vedere a velocità normale sulla scena 2 bisogna fare un'animazione sulla scala cioè io voglio che la scena 2 quando comincia sia più grande di quello che è e 4 secondi dopo quindi circa a 12 secondi noi siamo circa 8 andiamo a 12 ecco in questo momento qua clicco il tasto s evidenzia la proprietà scala ecco voglio che in questo momento qui la scala della composizione sia così com'è cioè 100% e accendo l'orologio all'inizio della scena 2 invece qui voglio che la composizione scena 2 sia più grande di un po' la ingrandisco tipo 120 130 ecco una cosa così abbasso la risoluzione della composizione per fare in modo che la preview sia più rapida faccio partire la preview vediamo se si nota questa animazione sulla scala direi di sì vediamo la velocità corretta deve simulare una specie di zoomata all'indietro come una specie di carrello all'indietro va bene magari il keyframe finale lo ammorbidiamo così quando finisce l'animazione rallenta quindi seleziono il keyframe finale f9 e quindi la stessa animazione con un rallentamento finale benissimo quindi abbiamo completato la transizione che separa la scena 1 dalla scena 2 ora dobbiamo fare un'altra transizione che separa la scena 2 cioè la fine della scena 2 con l'inizio della scena 3 andiamo a vedere quale elemento che copre questa transizione l'elemento è questo pesce rosso che entra a destra e con una parabola poi esce a sinistra ed è grande in modo tale che la sua altezza qua si vede bene copre interamente la composizione benissimo andiamo a prendere il disegno del pesce aggiungiamolo qua e siccome è un disegno illustrato dobbiamo ricordarci di accendere questo pulsante qui che mantiene la definizione dell'immagine anche quando la ingrandisco e in questo caso particolare poi è molto importante perché infatti devo ingrandire tanto il pesce fino a che la sua altezza non copre interamente l'altezza della composizione direi che più o meno così va bene ora anche qui il pesce a noi serve da più o meno 16 a 18 quindi trimiamo tutti quanti i frame iniziali del pesce fino a circa 16 e trimiamo anche la parte finale fino qua e non solo metto anche il livello del pesce sopra la scena 2 così in modo che sia più evidente dove inizia e finisce rispetto alla scena 2 bene ora devo lavorare sulla posizione del pesce cioè deve stare fuori qui in basso a destra e poi entrare con una parabola uscire fuori in basso a sinistra il movimento è simile a quello fatto nella scena 2 per i pesci che venivano fuori dall'acqua e poi si rimmergevano quindi sono sul primo frame del pesce lo metto fuori e più o meno voglio che stia qua clicco il tasto p per evidenziare la position e accendo l'orologio alla fine cioè qua sull'ultimo frame prendo il pesce e lo sposto dalla parte opposta ora per fare in modo che a metà strada il pesce occupi interamente la composizione prendiamo le maniglie del tracciato di movimento e le spostiamo in modo tale che il pesce occupi il centro della composizione così più o meno dovrebbe andare bene ma non ci basta perché noi vogliamo che il pesce si metta in direzione del tracciato di movimento quindi facciamo quello che abbiamo fatto nella scena 2 cioè andiamo nel menu layer transform auto orient e attiviamo l'orient along path del pesce e come c'era successo anche precedentemente dobbiamo riallineare la direzione del pesce agendo sulla rotazione quindi tasto r sul pesce e 180 gradi in questo caso dobbiamo correggere bene adesso verifichiamo che il pesce faccia un percorso giusto più o meno così è quello che volevamo sì benissimo e vediamo se la coda esce del tutto benissimo direi che ci siamo ora dobbiamo aggiungere l'effetto linear wipe sulla scena 2 e fare in modo che il taglio segua il percorso che il pesce fa quindi seleziono la scena 2 vado nel menu effetti transition linear wipe benissimo subito faccio comparire le proprietà nella timeline quindi tasto destro sulla proprietà caso reveal in timeline e attenzione questa volta è leggermente diverso perché il taglio non è proprio da destra a sinistra ma è un po inclinato in questa direzione e poi alla fine inclinato in questa direzione quindi dovremo mettere i keyframe non solo sulla transition complexion ma anche sulla direzione quindi anche sulla wipe angle quindi andiamo a cercare il momento in cui la metà del pesce copre l'inizio della transizione questo angolo qua e per capirci meglio guardate abbasso anche un po' l'opacità del pesce così si intravede anche quello che succede sotto ok quindi il pesce si muove da destra a sinistra quindi anche la transizione dovrà muoversi da destra a sinistra quindi la direzione se guardate bene non va bene così ma deve essere messa in quest'altra direzione ok ma non voglio che sia perfettamente verticale ma che sia leggermente inclinata come è inclinato il pesce cioè così quindi metto a zero con inclinazione più o meno come quella che ha il pesce e accendo l'orologio sia di transition complexion sia di wipe angle poi andiamo avanti fino a quando il pesce non nasconde interamente anche l'altro angolo questo qua in questo momento qua la transition dovrà essere 100 per cento però l'angolo attenzione deve essere più o meno così come si trova inclinato il pesce adesso quindi l'angolo più o meno così è la transition complexion 100 per cento vediamo cosa succede a metà strada si vede no sotto il pesce che l'inclinazione e l'avanzamento della tendina seguono perfettamente il pesce sia all'inizio quando inclinato verso l'alto sia alla fine quando inclinato verso il basso naturalmente all'inizio della transizione qua sopra in questo angolo purtroppo il pesce non riesce a nascondere interamente il taglio della transizione noi in questo caso aumenteremo un pochino la proprietà feather la terza proprietà della transizione in modo tale che il taglio non sia proprio un taglionetto fra la scena 2 e la scena 3 ma ci sia un po' di sfumature in modo tale che si mischieranno un po' qua le due scene un feather di qualche decina può bastare quindi la transizione direi che è completata riportiamo l'opacità del pesce a 100 per cento in modo tale che nasconda il più possibile la transizione e ci siamo infatti il passaggio del pesce si porta via la scena 2 benissimo adesso prendiamo nella finestra di progetto la scena 3 e la aggiungiamo qui la scena 3 deve allinearsi con l'inizio della transizione quindi vado sul primo keyframe della transizione prendo la scena 3 col tasto shift la sposto e quando si avvicina al keyframe si calamita lì ok facciamo una preview intorno la transizione tra la scena 2 la scena 3 vediamo se tutto può funzionare quindi il pesce si mette ma intanto sotto viene la transizione tra la scena 2 la scena 3 direi che è perfetto benissimo ora anche qui all'inizio della scena 3 c'è il carrello lì indietro c'è l'animazione sulla scala della scena 3 quindi facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto sulla scena 2 cioè 4 secondi dopo l'inizio se comincia più o meno a 16 e mezzo direi andare fino a 20 21 clicco il tasto s accendo l'orologio per fissare la grandezza finale della scena 3 cioè 100 per cento mentre all'inizio della scena 3 voglio che la scena sia più grande tipo 130 120 facciamo di nuovo una preview abbiamo questa lenta zoomata indietro e già che ci siamo dopo aver rivisto un'altra volta mettiamo anche l'isis al keyframe finale f9 benissimo quindi più o meno è finito alla fine di tutto la scena dovrebbe sfumare in un paio di secondi a bianco quindi se vogliamo anche noi mettere una dissolvenza finale a bianco dobbiamo aggiungere un rettangolo bianco alla fine quindi layer new solid lo chiamiamo dissolvenza bianco make comp size e colore appunto bianco come già impostato do l'ok voglio che la transizione avvenga negli ultimi due secondi quindi tutto finisce più o meno qui a 26 e mezzo voglio due secondi prima quindi vado circa 24 e mezzo e trimmo via tutti quanti i frame fino a quel momento poi clicco il tasto t per evidenziare la proprietà opacità voglio che all'inizio la dissolvenza bianco sia 0 cioè non si veda il bianco accendo l'orologio e alla fine della scena 3 riporto l'opacità del rettangolo bianco a 100% e quindi da qui in poi sarà bianco quindi posso anche provare a fare una preview finale di tutto quanto magari a una dimensione maggiore quindi abbiamo la scena 1 già completata nella prima parte poi abbiamo il passaggio dalla scena 1 alla scena 2 con una transizione nascosta da questo gruppo di nuvole poi abbiamo tutta quanta la scena 2 già pronta e poi arriva la transizione tra la scena 2 la scena 3 e poi quando anche la scena 3 sta per concludersi c'è la dissolvenza al bianco bene fermiamoci qui se volete aggiungere una musica potete farlo io importo la musica che ho usato io che è questo spring in my step se la volete scaricare anche voi la potete trovare nell'audio library di youtube naturalmente dovete prima crearvi un account come ho fatto io e qui potete trovare una quantità enorme di file audio che possono essere usati liberamente per qualsiasi progetto ok quindi che sia questa musica o di un'altra la potete importare prendere aggiungere nella timeline e poi riascoltate il tutto quanto bene quindi abbiamo completato l'esercizio numero 2 ci rivedremo nelle prossime lezioni del corso ciao a tutti quindi e alla prossima